Ci siamo, è arrivato il momento decisivo, gli ultimi 90 minuti della stagione del campionato di Serie B quelli che devono dirci chi accompagnerà il Palermo e l'Empoli in Serie A Prova Viviani a mettere dentro, Coser Ancora Aristowski che va al cross, palla messa fuori, Bruno che prova a calciare Bruno ha portato il vantaggio in Latina, il tiro di Bruno al tredicesimo del primo tempo, Latina avanti Ha rimesso in gioco su Coppola, attaccato da Crimi, ancora Coppola va da solo, il centrocampista romano Prova a calciare, Coppola! In calcio d'angolo, Iacobucci Qui De Frel, ancora De Frel, la parata di Iacobucci, Brusca Gin si era perso De Frel Ancora Marilungo in velocità, non lo molla Brosco, insiste Marilungo, rientra bene Marilungo prova a mettere dentro e c'è il gol dell'1-1 Ha pareggiato De Frel, 1-1 Cesena, il pareggio di De Frel Grande azione di Marilungo, De Frel si è inserito, erano in due liberi da quella parte Parte lo spiovente e non ce la fa, mettere il pallone dentro Jonatas Che occasione per il 2-1 del Latina Nota col Marilungo, ancora la ribia, la meglio, Marilungo! Lo mette a terra, è calcio di rigore, è calcio di rigore per il Cesena 6 gol, ha segnato, di cui 2 sul calcio di rigore Parte Cascione, destro e gol 2-1, vantaggio Cesena Il Cesena va avanti anche nella partita di ritorno E ha davvero un piede se non tutti e due in Serie A Finisce qui, il Cesena torna in Serie A È la terza squadra del campionato cadetto che giocherà l'anno prossimo in Serie A È la terza squadra del campionato cadetto che giocherà l'anno prossimo in Serie A